Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Palazzo Nervegna, l'approfondimento del nostro telegiornale dedicato al territorio e alla politica, è iniziato il conto alla rovescia in vista delle prossime elezioni regionali, una campagna elettorale molto molto particolare per i motivi che tutti conosciamo, a cominciare dal fatto che stiamo vivendo la campagna elettorale in prima, in piena estate, però insomma i temi non mancano in questo periodo e cercheremo chiaramente nel corso di questa settimana di presentarvi i vari candidati e di discutere con loro di quelli che sono i temi di maggiore attualità. Ho due ospiti importanti quest'oggi nei nostri studi di Brindisi di Studio 100 TV, ben ritrovato a Fabiano Amati, consigliere regionale, presidente della Commissione Bilancio, candidato alle prossime regionali con il Partito Democratico, grazie Presidente per aver accolto il nostro invito, ben ritrovato, ben ritrovato anche a Maurizio Friolo, più volte ospite anche nelle nostre trasmissioni in diverse vesti e candidato alle prossime elezioni regionali con la Puglia domani, ben ritrovato, grazie anche al dottor Friolo. Allora, io direi di iniziare con la collaborazione di Alessandro Colavito che cura la parte tecnica di questa trasmissione con quello che è senza ombra di dubbio l'argomento del momento, quindi la possibile nuova emergenza Covid. La ASL a Brindisi anche nei giorni scorsi ha annunciato nuovi controlli, ci sono diversi vertici che si stanno tenendo con le forze dell'ordine, sapete di quello che è stato l'intervento del Governo che ha disposto la chiusura delle discoteche, imponendola di fatto a tutte le regioni e non lasciando più la discrezione alle stesse regioni rispetto a questa decisione. Noi nei giorni scorsi abbiamo ascoltato il direttore generale dell'ASL a Brindisi, Giuseppe Pasqualone. Iniziamo da questo. È presto per parlare di emergenza, ma in caso di necessità ci faremo trovare pronti, a differenza dell'altra volta, siamo preparati. Così il direttore generale dell'ASL a Brindisi, Giuseppe Pasqualone, sulla nuova ondata di contagi da Covid-19. Guardi, l'emergenza direi no. Siamo un po' preoccupati per un piccolo ritorno di contagi, ovviamente questo ci deve far alzare il livello di allerta per evitare che ritorni l'emergenza. Con questo stiamo dedicando molta attenzione, soprattutto il Dipartimento di Prevenzione, addirittura anche con le forze di polizia. Non c'è una ripresa di ricoveri, questo è un dato positivo. C'è qualche contagio in Puglia, soprattutto in alcune province. Ovviamente i Dipartimenti di Prevenzione stanno facendo un grande lavoro per evitare che questi piccoli popolai possano degenerare. E intanto oggi il nuovo vertice è in questura per intensificare i controlli sul territorio. Sì, noi abbiamo avuto delle segnalazioni, ovviamente io a quel punto ho disposto al Dipartimento di Prevenzione di accordarsi con le forze di polizia e iniziare un'attività di controllo molto accurata, non solo nelle discoteche ma in tutti i locali, poste all'aperto. Oggi c'è un ulteriore confronto in questura con il questore e il Dipartimento di Prevenzione per ovviamente prendere atto di quelle che sono le nuove disposizioni date ieri dal governo e quindi procedere con attività di sorveglianza sanitaria, di controlli. Adesso non tanto più nelle discoteche perché rimarranno chiuse ma soprattutto nelle zone, soprattutto nei comuni dove c'è un'affluenza turistica notevole e quindi nei centri storici abbiamo riscontrato che ci sono fenomeni di assembramento che ci preoccupano. Direttore, l'ASL e comunque le strutture sanitarie della provincia di Brindisi, auguriamoci chiaramente di no, ma sarebbero pronte a fronteggiare una seconda ondata di emergenza Covid? Noi abbiamo messo in campo tutta una serie di iniziative per migliorare l'attività che abbiamo fatto durante il periodo dell'emergenza. Alcune di queste iniziative comportano spese rilevanti, quindi le procedure le abbiamo espletate, gli atti sono pronti, adesso dobbiamo come suol dirsi giocare sui tempi, vogliamo evitare ovviamente di spendere troppi soldi e poi magari questo non serve, però ci siamo organizzati, abbiamo preparato alcune strutture, abbiamo fatto dei lavori, abbiamo fatto una serie di procedure che consentiranno eventualmente di ampliare le zone di attesa per i sospetti Covid, abbiamo già fatto da tempo gli ordini, abbiamo addirittura diffidato le ditte per consegnarci nuovi macchinari per i tamponi. Allora, i temi sono questi, dice il direttore Pasqualone, in caso di nuova emergenza questa volta saremo pronti perché chiaramente non può essere paragonato sia in termini di numeri che in termini di effetto sorpresa evidentemente a quello che è accaduto in occasione della prima ondata e comunque in generale attualmente non si può parlare di emergenza. Allora, iniziamo da Fabiano Amati. Intanto siamo già in emergenza o no? Siamo in emergenza, siamo in emergenza, sia pur con un numero di casi ridotti rispetto al passato. La provincia di Brindisi, siccome l'emergenza viene gestita su due fronti, eventualmente la recrudescenza del numero dei casi, e cioè il fronte degli acuti, la malattia acuta che ha bisogno di cura, che si sviluppa attorno generalmente a tre tipo di prestazioni, la prestazione delle malattie infettive, la prestazione della pneumologia pneumologica e la prestazione della terapia intensiva e poi tutta l'organizzazione relativa ai centri Covid post-acuzia, perché quando poi una persona, la persona contagiata guarisce, ha bisogno di un ulteriore periodo in cui viene tamponato e poi successivamente riportato, riammesso alla vita normale. da questo punto di vista l'ASL di Brindisi ha potenziato l'offerta di terapia intensiva e qui segnalo un problema, noi per tanti anni ci siamo fossilizzati sulle strutture piccole che alla fine non servivano a nulla e abbiamo scoperto che di fronte ad una pandemia invece abbiamo bisogno di strutture di eccellenza e di reparti di eccellenza, perché questa è la grave carenza e poi invece abbiamo in provincia di Brindisi dei centri che sono facilmente destinabili a centro Covid post-acuzia, che sono gli ospedali di comunità, una grande originalità in Puglia, nelle altre ASL non ce ne sono, qui invece abbiamo Fasano, Cisternino, Ceglie, Mesagne e adesso stanno per cominciare i lavori dell'ospedale di comunità di San Pancrazio Salentino, questi sarebbero 5 posti, 5 strutture, ognuna da moduli da 12 posti letto in media che potrebbero essere destinati al Covid post-acuzia, cioè all'occorrenza, spingendo un bottone, ecco perché la necessità, il Covid, l'occasione del Covid ha dato l'opportunità di mettere in campo, le forme organizzative, peraltro fatto tutto in tempi di emergenza e quindi con tempi molto ristretti, tanto da poter fronteggiare meglio un'eventuale recrudescenza. Diciamo che non c'è il rischio di farsi trovare in contropiede, o quantomeno è limitato. Diciamo meglio, meglio rispetto al passato. Maurizio Friolo. Io la guardo da un'altra prospettiva, abbiamo ascoltato il direttore generale che ci ha rassicurato e ha detto che non c'è questa emergenza, la politica evidentemente la pensa in modo differente, chi ci amministra evidentemente la pensa in modo differente, quindi è necessario comunque collegare i tecnici, quindi i direttori generali e coloro i quali si interessano, anche alla politica, perché non è possibile da una parte creare allarmismo e dall'altra parte invece dare tranquillità alla gente. Io mi fidierei più dei tecnici che dei politici in questo momento. Per quanto riguarda invece la gestione, io mi permetto di segnalare, essendo anche io un operatore della sanità, nonostante sia un avvocato, ma opero in sanità, una scelta inopportuna. Noi abbiamo un unico ospedale di eccellenza che è il Perrino. Ecco, io non avrei individuato come ospedale Covid il Perrino, perché abbiamo visto anche cosa è successo quando la pandemia è arrivata ai massimi livelli. Si sono dovuti chiudere reparti di eccellenza come l'apneologia, un reparto indispensabile per la cura dei malati Covid. Si sono ammalati molti medici e quindi già ce ne sono pochi medici, ci siamo privati di eccellenze e quindi non è che le altre malattie sono diminuite, ma si sono comunque associate a quella che è stata la malattia Covid. Quindi questa scelta secondo me è stata inopportuna e noi abbiamo tanti ospedali dismessi che guarda caso in questo periodo elettorale vogliono tutti quanti riaprire anche con la raccolta di firme, ma la raccolta di firme la stanno facendo quegli amministratori che in questi 15 anni hanno amministrato la Puglia e mi sembra strano che in campagna elettorale poi ci siano queste iniziative un pochino particolari. Per fare un esempio a Mesagne il sindaco che è della stessa parte politica di Emiliano e che comunque è della stessa parte politica di chi ci ha amministrato in questi 15 anni ancora una volta chiede una raccolta di firme per l'apertura di un ospedale. Allora mettiamo da parte la campagna elettorale perché come giustamente hai detto tu è una campagna elettorale strana, pensiamo alle cose serie. Il peso specifico della sanità sulla campagna elettorale è sempre notevole, voi ne sapete qualcosa in occasione dell'ultima partecipazione di Fitto sul piano ospedaliero? Assolutamente sì, però quel piano poi è stato attuato da altri ma non è stato attuato così come era stato pensato perché abbiamo una medicina territoriale che non è stata mai attuata per colpa di una programmazione regionale che non c'è mai stata. Dico poi bisogna dire la verità com'è che si attuano questi piani. E quindi dicevo il Covid è soltanto la punta dell'iceberg di una sanità che non funziona non certo per i direttori generali ma per una programmazione secondo me sbagliata. Allora approfittiamone di questa pandemia, approfittiamone di questa emergenza per migliorare non soltanto ciò che serve per il Covid ma per migliorare una sanità in generale. E appunto quello che dicevo prima, la campagna elettorale non serve a questo. Noi ci avremmo dovuto pensare prima, il governo regionale ci avrebbe dovuto pensare prima a fare una programmazione più seria per avere una sanità migliore. L'ultima cosa, chiedo scusa sull'argomento, se noi ci troviamo in questa situazione anche grazie secondo me alla schizofrenia di un Presidente che ha invitato tutti a venire in Puglia. Tra poco parliamo della gestione da questo punto di vista, turismo e quant'altro. Non so se Amati vuole aggiungere qualcosa, vuole replicare a quello che diceva. Io sono d'accordo, mancano gli ospedali di eccellenza. Qui per anni abbiamo difeso gli ospedali piccoli piccoli che non servivano a nulla. Tra Bari e Brindisi, 130 km non c'è un ospedale di eccellenza, lo stiamo costruendo adesso, che è l'unico dato al servizio del nord della provincia di Brindisi e del sud della provincia di Bari, perché la malattia non ha confini amministrativi e territoriali, infatti questo è un altro grande difetto. Quando noi ci siamo ritrovati a destinare il perrino, a vedere destinato il perrino alla gestione del Covid, e uno dice perché nelle altre strutture il clima, per esempio la climatizzazione, non ha reparti a pressione negativa. Ora questo è un fatto tecnico, a me questo argomento io l'ho tratto da tecnico, perché a me delle dispute politiche, Miliano, Fitto, sopra e sotto, la destra e la sinistra, voi sapete bene che mi conoscete, per me le cose non valgono per la maglia che indossi, ma per la qualità della proposta che avanzi. Se tu non hai reparti a pressione negativa, non puoi destinarli a gestire il Covid, punto, hai una difficoltà infrastrutturale, allora tu, obiettiva, basta chiedere ad un medico, qualsiasi ti dice così, quindi sei costretto a destinare il perrino, con tutto ciò che ne consegue. Ecco perché c'è la necessità, per esempio, di Francavilla Fontana, di fare le innovazioni tecnologiche e infrastrutturali, con rapidità, non è un problema della politica, è un problema della burocrazia. Guardate che per acquistare il gruppo elettrogeno a Cisternino, l'ospedale di comunità, io sto impazzendo da un mese e mezzo per l'acquisto di un gruppo elettrogeno. Perché? Perché la lettera d'invito alle ditte per l'offerta, che doveva partire all'inizio di agosto, è partita dopo Ferragosto, e ora dobbiamo aspettare il 27 per concludere le procedure. Io mi occupo di queste cose concrete. Il problema purtroppo non è fitto emiliano, è un peso burocratico da fare spavento. Friulo ovviamente difende la burocrazia perché ne fa parte, però invece il problema è esattamente... Non è andato a verificare la mia struttura, i dati della mia struttura. No, 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 parlo della burocrazia in generale, non la struttura legale dell'ASL di Brindisi. La burocrazia in generale, il mal di firma. Ok? Quindi queste sono conseguenze dirompenti nella vita delle persone. Allora, la sanità brindisina, visto che mi candido in provincia di Brindisi, dovrebbe avere due ospedali di eccellenza. Uno c'è il perrino, l'altro in costruzione. A Brindisi ci dovrebbe essere il disumma, riconvertito grazie ad una mia iniziativa in PTA e ospedale di comunità. Adesso stanno facendo la progettazione per scaricare il peso che il perrino sopporta. Il perrino si occupa di cose per cui non dovrebbe occuparsi. Allora, questa dimensione problematica ha bisogno di un lavoro tecnico, non di chiacchiericcio politico di maglie da indossare. E' stata la mia iniziativa di questi anni. Fabiano, sei una persona che stimo, perché sei tra i consiglieri regionali di questa legislatura che ho apprezzato di più. Però bisogna essere onesti. Il centro-sinistra amministra questa regione e quindi la sanità di questa provincia da 15 anni. E tu sei all'interno di questa coalizione da 15 anni con ruoli molto importanti e non possiamo solo adesso semplificare con la burocrazia. I direttori generali non li ho nominati io, ma li ha nominati una parte politica che non è la mia. La gestione che c'è stata non è stata la nostra. Tra l'altro in questa legislatura noi siamo stati proprio a sensi, perché in questi cinque anni ha amministrato solo il centro-sinistra e non c'è stato un consigliere di opposizione in questi cinque anni in provincia di Brindisi. E ancora peggio, non c'è stato un assessore, perché Brindisi è stata dimenticata, è stata cancellata dalla cartina geografica. Tant'è che Fabiano è stato costretto a fare il proprio ospedale, a trasferirlo a Bari. No, scusami. Scusa che con me Emiliano Fritto... No, aspetta, sto continuando. No, 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 noi parliamo di cose concrete. Certo, di cose concrete, ma state amministrando da 15 anni Fabiano. Ma è un bacino epidemiologico, non è l'ospedale fatto a Bari. No, e ti dico di più. Non è un'ospedale che lo stiamo facendo. No, ma va bene o male che lo stiamo facendo. E' ciò che ho fatto io, quello l'ho fatto io. A Bari, non a Brindisi. Ma che a Bari? A Bari, non a Monopoli, se non vado errato, è in provincia di Bari, non di Brindisi. Però vado oltre, scusami, siccome ho detto in premessa... No, scusa, Maurizio, Maurizio, non possiamo dire queste cose. Come possiamo dire questo? Monopoli e provincia di Bari? No, il territorio, sito nel territorio di Monopoli a due chilometri dal confine di Brindisi... Ci stiamo privando di un ospedale delle eccellenze, Bari è già troppo. ...per abbracciare il bacino epidemiologico di Bari e di Brindisi per avere un ospedale di secondo livello, perché altrimenti in provincia di Brindisi l'avremmo avuto di primo livello e non di secondo livello. È una scelta di potenziale tecnologico. Allora miglioriamo i nostri secondo livello. Con me i fatti, non le chiacchiere. Difatti, non le chiacchiere, stai amministrando tu da 15 anni, non sto amministrando io. Noi abbiamo due ospedali di secondo livello, gli altri li abbiamo chiusi tutti, però tu sai... No, Baccavilla è primo livello, non è secondo. Quello è un DEA di secondo livello. No, Baccavilla è primo livello, non è secondo. E comunque può trasformarlo in secondo livello, visto che siamo brindisiati. E perché non è possibile trasformarlo? Perché non ha le dimensioni strutturali per andare a 499 posti letto. Ecco, bravo, però è possibile farlo. Scusami, allora, parliamo di tecnica e di politica. Io mi candido per fare politica e quindi tu sei... Parliamo di tecnica e di politica. Di politica i fatti. Di politica i fatti. Allora, io nella premessa ho parlato di te con una persona che stimo e continuo a dirlo. Assolutamente. Perché ti stimo? Ti ho stimato ancora di più quando hai fatto le primarie, Fabiano. Tu mi hai incantato. E l'ho perso. Guarda, se Fabiano vince le primarie, forse io cambio idea. Impazzisco e cambio con lui. Però poi, scusatemi. No, ma ricordatevi quello che ha detto Fabiano. Fabiano ha detto tante cose giuste. Tra l'altro, non parole fatti, perché diceva come voleva trasformare questa regione. Però, scusami, se tu continui a candidarti con Emiliano, non è che ti cambia la testa di Emiliano. Cioè, Emiliano, ho capito, hai perso. Le primarie. Eh certo, hai perso le primarie. Potevi aiutarmi a votarmi. Ti ho aiutato, forse, non lo so. Non mi ricordo se sono andato a votare. Attenzione che potremmo avere rivelazioni importanti. No, no, ma per davvero. Però tu hai fatto delle dichiarazioni importanti. Cioè, il tuo modo di pensare non è quello di Emiliano. È totalmente differente. Cioè, i cittadini hanno detto che aveva ragione lui, votando lui. A me è dispiaciuto che pensi. Quindi, quello che tu dici, tecnicamente, non è condiviso da Emiliano. E' difficile. Era qui un giorno il consiglio amati, prima di quelle primarie, disse qualora dovessi perdere, sarò comunque a disposizione di, facendo... Come avresti fatto tu nella tua coalizione, perché sei uomo leale. Assolutamente sì. La leata viene prima di ogni punto. Però, siccome tu parli di tecnica, quando parli di tecnica sei preparato. Quindi, dico, no, 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 assolutamente. Però, però ti dico che, con Emiliano, quelle tue idee non sono state attuate in questi cinque anni. Ritengo che non le ascolti nemmeno per i prossimi cinque. E auguriamoci che vinciamo assieme, così mi dai una mano e facciamo cose buone. Entrambi eletti, così facciamo cose buone. Tanto il centrodestra vincerà, starai a fianco a me e faremo le cose insieme per Brindisi, perché sai come lavoro io. O in maggioranza o in opposizione, la cosa che non si è fatta in questi anni è lavorare per questa provincia. E su questo ci siamo accordati. Vi ringrazio per aver animato il dibattito politico, in questo periodo invece è abbastanza floscio, vedo in generale. Quindi la discussione è interessante. Prima facevate riferimento, facevo riferimento Friolo in particolare alla questione legata agli arrivi in Puglia, perché poi di fatto, questo è un dato abbastanza oggettivo, che i contagi li abbiamo importati comunque durante questo periodo estivo. Una delle novità rispetto a questa seconda ondata di emergenza Covid-19 è l'introduzione dei tamponi entro 72 ore per chi rientra in particolare da Grecia, Spagna, Malta e Croazia. Vediamo questo servizio. Grecia, Malta, Spagna e Croazia, rispettati i tempi per i tamponi a 72 ore dai rientri. Il Dipartimento della Salute della Regione Puglia, infatti, fa sapere che procede nei tempi previsti l'effettuazione dei tamponi per coloro che sono arrivati in Puglia a partire dal 12 agosto da Grecia, Malta e Spagna e a partire dal 13 anche dalla Croazia. Chi rientra da questi paesi deve autosegnalare la propria presenza sul sito della Regione Puglia e mettersi in isolamento fiduciario. Il tampone nella nostra Regione viene effettuato dopo le 72 ore da rientro. È solo ad esito negativo e ammesso il rientro in comunità e la fine dell'isolamento. I Dipartimenti di Prevenzione delle Asle Pugliesi hanno preso in carico i cittadini rientrati dal 12 agosto da questi paesi e stanno effettuando nei tempi previsti i tamponi man mano che maturano le 72 ore. Un'attività che proseguirà senza sosta e che si aggiunge ai test che vengono effettuati sui contatti stretti di casi Covid, su chi presenta sintomi, su chi deve recarsi in strutture ospedaliere. Sono a lavoro i lavoratori pubblici, laboratori privati e drive-thru per effettuare i tamponi nei tempi previsti. 13 i laboratori di analisi pubblici sparsi in tutta la Regione. Per effettuare il test è operativa anche la rete di drive-thru, postazioni per effettuare test senza scendere dalla propria auto per evitare attese e disagi e ridurre al minimo i tempi di isolamento fiduciario. I drive-thru sono attivi al momento nelle strutture territoriali Asla di Altamura, Noicattaro, Giovinazzo, Alberobello, Bari all'ex CTO. Due drive-thru in provincia di Lecce e da giovedì 20 agosto attivo anche a Brindisi al Barco 3, ingresso fornitori dell'ospedale Perrino. Sono sei i drive-thru in provincia di Foggia, in quella di Taranto, e attiva una postazione a Massafra e fra tre giorni sarà attivo anche il drive-thru a Manduria. A queste strutture si aggiunge la rete dei laboratori privati che effettuano i test molecolari per la ricerca del virus SARS-CoV-19. Sino al 31 agosto, chi rientra da Grecia, Malta, Spagna e Croazia, trascorre almeno 72 ore dal suo ingresso nel territorio regionale e può scegliere di recarsi presso il laboratorio della rete privata per effettuare il tampone. I laboratori di microbiologia e virologia ammessi nella rete regionale già operativi sono per il momento nei territori di Lecce e di Bari. Allora, proviamo a semplificare al massimo la cosa. Ritiene che si sia aperto tutto troppo presto? E come è stata gestita questa fase post-lockdown dalla regione Puglia? Io ritengo che si sia aperto tutto troppo presto. Abbiamo visto anche il balletto tra governatore e ministro e sottosegretario Boccia. quindi il giorno prima Emiliano annunciava che il giorno dopo si sarebbe fatto qualcosa, il giorno dopo il governo faceva qualcosa, il ministro delle regioni, non sottosegretario chiedo scusa, ho sbagliato. Ministro Boccia. Quindi sono andati in perfetta sintonia per iniziare una campagna elettorale. Emiliano è invitato a venire tutti in Puglia perché la Puglia era una regione tranquilla, era una regione organizzata e ha invitato a venire tutti in Puglia. La gente lo ha ascoltato perché noi siamo forse tra le regioni più frequentate di questa estate abbastanza particolare e abbiamo il pienone dappertutto. Però bisogna comunque andare a contemperare quelli che sono gli interessi economici che sono importanti ma soprattutto penso quelli che sono gli interessi sanitari e garantire una sanità eccellente a chi ci viene a trovare. Perché noi poi non dobbiamo offrire i nostri sistemi sanitari, la nostra offerta sanitaria che per quanto mi riguarda la ritengo abbastanza scarsa soltanto ai cittadini pugliesi. Ci vengono a trovare persone del nord, ci vengono a trovare persone dall'estero e quindi dobbiamo essere in grado di affrontare questo problema. Le devo chiedere di alzarsi un po' il microfono che sta accadendo. Perfetto così, va bene così? Grazie. Dopo l'invito che c'è stato del governatore Emiliano di far venire tutti quanti in Puglia e lo hanno ascoltato, poi con questo comportamento schizofrenico ha detto no, aspettate, fermate, iniziamo comunque sia a fare i controlli e a preoccuparci. Questi controlli però secondo me non sono stati mai fatti. Ho frequentato poco per la verità quest'anno le spiagge, ma quel poco che le ho frequentate non ho visto assolutamente il rispetto delle distanze, ho visto degli assembramenti, ma soprattutto non ho visto una collaborazione tra le istituzioni. Non basta la ASL e la Questura, parliamo di Brindisi e della nostra provincia. Il comune, i porti, gli aeroporti, le stazioni ferroviarie. Quindi non c'è un'azione di intenti comune per andare a programmare una eventuale pandemia che ci potrebbe nuovamente essere. E tra l'altro è stato riferito prima da Fabiano Amati, ma anche dal direttore generale che ancora non siamo pronti con le attrezzature per un problema burocratico e non per un problema economico. Abbiamo visto, se non sbaglio, o stamattina o ieri mattina, hanno inaugurato a Bari un macchinario che addirittura diminuisce di un terzo i tempi per fare i tamponi. Si stanno facendo pochi tamponi, ma perché non ci sono i mezzi necessari per farlo, ma tutto questo è accaduto per i comportamenti non lineari, prima dell'invito, poi del blocco che c'è stato ed è dovuto intervenire il governo per dire chiudiamo le discoteche, però c'è anche autonomia da parte delle regioni, innanzitutto per fare i controlli e poi forse per essere più attenti e chiudere qualche altra cosa, per far stare più tranquilli i cittadini pugliesi, i cittadini brindisini, ma anche i turisti che sono venuti a trovarci. Fabiano Amati. La questione qua è una questione delicatissima perché pende tra il morire di Covid e il morire di fame, quindi quando sei posto di fronte a questa scelta che è anche natura di dilemma, è chiaro che diventa abbastanza complicato immaginare qual è la gestione, peraltro in Italia nessuno aveva mai gestito una pandemia, l'ultima fu agli inizi del Novecento, la spagnola, quindi abbiamo dovuto in fretta reinventare un sistema di cura e di contenimento che non avevamo. Dovete pensare che la regione che ha sofferto di più è la regione Lombardia, la regione che fino a qualche mese fa veniva data come l'assoluta eccellenza, il riferimento assoluto della sanità italiana. Io siccome non mi intendo di politica non dico da chi è gestita quella regione da tanti anni. I primi focolari sono arrivati là, meno male che sono arrivati là. Perché il mio costume è quello di non fare mai confusione tra la maglietta indossata e la qualità della risposta, perché tu sei bravo o non bravo, non in base al fatto che indossi la maglietta dalla Juventus. Diciamo che è un calciatore bravo al di là della maglia che indossa. La metafora è esattamente quella, ma in base alla qualità tecnica che hai, cioè poter stare in campo, fare gol, eccetera. Quindi è stata una questione molto complicata. È chiaro che ci sono anche elementi di propaganda nella gestione di una pandemia. Perché? Perché tocchi le esigenze e le paure delle persone. Devo dire che per grazia di Dio noi in Puglia non siamo stati colpiti nelle dimensioni in cui sono state colpite altre regioni, per cui ce la siamo cavata relativamente bene, ma non per merito ingegno, ma per il fatto che il numero dei casi era ridotto. E questo ha come cartina di torna solo il ragionamento che faccio da anni e che fece anche quando contestai aspramente in piazza una delibera dell'aggiunta regionale, la 1429 del 2001, non vi dico chi la propose, perché ripeto, io sulla sanità non faccio politica, che riordinava il sistema ospedaliero pugliese, però non dava per esempio, non aggiungeva, ed era il motivo della mia contestazione, per esempio il nuovo piano di edilizia ospedaliera, che feci io con Vendola qualche anno dopo con i famosi cinque nuovi ospedali, dei quali io sono arrabbiatissimo, perché in questo momento ce n'è soltanto uno in costruzione, l'altro speriamo che parta più presto, che è quello di Taranto, dove a Taranto non c'è un ospedale serio, nonostante le difficoltà che vive quel territorio. E dice, ma tu sei candidato a Brindisi, che te ne frega di Taranto, perché la sanità ha una dimensione regionale, la sanità non ha una dimensione da cortile di casa, Taranto a me interessa, proprio perché amministratore pubblico dalla provincia di Brindisi, come mi interessa Lecce, come mi interessa Bari, perché la interscambiabilità o la prevalente specializzazione è importante. Allora, al di là della propaganda politica con cui, o degli elementi di propaganda politica con cui si è gestita l'emergenza, che c'è, c'è torti a ragioni ovunque, come sempre, a me interessa invece moltissimo predispondere le condizioni affinché una non auspicabile recrudescenza della pandemia ci possa portare a questa condizione grave. Ma la domanda è, la regione Puglia avrebbe potuto o dovuto anticipare il provvedimento del governo rispetto alle nuove chiusure? No, a parte il fatto che io non credo nel federalismo nel contenimento del Covid, non esiste il federalismo, già a me l'ordinanza regionale mi fa, mi dà perplessità, perché una emergenza di carattere globale, globale, mondiale, deve essere gestita almeno a livello continentale, l'Europa e non la gestione di casa mia. Quando arrivi alla gestione di casa mia, la Lombardia che decide di fare in un modo, il Veneto di risposta decide di fare in un altro modo. Certo, ma io contesto questo, perché tenga conto che io ho fatto l'assessore alla protezione civile, nei sistemi della protezione civile non esistono i confini amministrativi, nei provvedimenti di contenimento, quando invece si lagano i confini amministrativi arriva la propaganda e non c'entra più il contenimento, quindi almeno a livello di Stato nazionale ci deve essere una decisione, io ho contestato le ordinanze regionali. Friolo? Io ritengo di essere tecnico come lo è Fabiano, magari con diversità, però mi fa specie quando Fabiano dice che lui non fa politica, io non so perché ci candidiamo allora, ci candidiamo, ritengo per fare... No, 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 ma voglio chiarire, non faccio manovrismo politico, cioè per me non piace destra e sinistra, super... No, ma non si tratta di fare destra e sinistra, Fabiano, vedi che questa regione è amministrata... Sì, no, no, per carità, forse ho inteso male, ma siccome hai detto io non faccio politica, allora... Hai notato, quando ho citato la delibera a fitto di riordino da l'edito ospedale, non ho detto fitto. Sì, ma potevi citarne delle altre di Vendola e di Emiliano. Sì, ma hai notato che non l'ho citato, per dimostrarti che per me è irrilevante chi c'era, è irrilevante invece cosa non è stato fatto. Bravo, cosa non è stato fatto? All'epoca? E cosa non è stato fatto adesso? Perché tu che sei un attento osservatore anche della sanità, è mai possibile che doveva arrivare questa pandemia per preoccuparci dei posti di terapia intensiva, per i posti di terapia post-operatoria che erano lì pronti e mai inaugurati? Io ritengo che la provincia di Brindisi, anche per queste fattispecie, sia molto carente perché per fortuna è arrivato in Lombardia il primo focolaio e lì è esplosa, perché sono molto più organizzati da noi. Quanti sono i posti di terapia intensiva nella Puglia? Quanti sono i posti di terapia intensiva in provincia di Brindisi? Siamo sottodimensionati? Quanti erano, soprattutto al momento dell'esplosione? No, ci arrivo, ci arrivo. Quanti sono? Perché adesso si stanno inaugurando, scusatemi, noi possiamo inaugurare quanti posti vogliamo, ma se non ci sono i medici che poi possono andare a curare la gente in quei posti, noi non abbiamo fatto un buon servizio perché abbiamo questo problema serio e i medici non è che non ci sono per colpa di Fabiano o per colpa di direttori Gianni o per colpa mia, non ci sono per un sistema che io non condivido perché ci sono i medici e non ci sono gli specialisti. Che cosa fanno le ASL? È assurdo, vanno a chiedere alle università l'elenco degli specializzanti e sono insufficienti per andare a coprire i reparti che ci sono per garantire un'assistenza sanitaria adeguata. Allora, prima di aprire i reparti è necessario preoccuparsi se c'è qualcuno che questa macchina la guida, altrimenti io, come dice Fabiano, forse voglio fare campagna elettorale, ma tu devi avere necessariamente una programmazione completa, non nell'inaugurazione del reparto, ma del funzionamento di tutto il reparto e noi senza i medici non ce l'abbiamo. A proposito di inaugurazioni, andiamo un attimo a Ostuni, prima parlavate del Monopoli Fasano, il Perrino, in mezzo c'è l'ospedale di Ostuni che qualche giorno fa è stato protagonista dell'inaugurazione del nuovo ristrutturato reparto di ortopedia. Vediamo il servizio. Completata la ristrutturazione del reparto di ortopedia dell'ospedale di Ostuni, le attività dei primi di giugno erano state temporaneamente ospitate nel reparto di chirurgia generale, a sua volta in precedenza oggetto di restyling. I lavori di ortopedia sono stati realizzati nel pieno rispetto delle recenti direttive anti-covid, sono stati disegnati percorsi separati con un nuovo impianto di climatizzazione. Tutte le stanze sono dotate di ogni comfort con nuovi arredi, pavimentazioni e rivestimenti in PVC, pitturazione ecologica e l'insegna della cromoterapia e illuminazione a LED. È un percorso che abbiamo iniziato, un percorso importante che abbiamo iniziato in questo periodo di emergenza sanitaria che vogliamo portare a termine per rimodernare tutta quanta la struttura e che riteniamo svolga un ruolo straordinario nell'ambito della rete ospedaliera della provincia di Brindisi. È un atto dovuto, un impegno forte che abbiamo assunto come direzione strategica e ringraziamento ovviamente all'ingegnere ammirabile che ha seguito come direttore dei lavori questo lavoro di ristrutturazione, alle ditte che hanno eseguito i lavori senza sosta e agli operatori della Sanità Service che hanno fatto uno sforzo incredibile in questi giorni per mettere tutto a punto e consentirci questa consegna che avviene proprio nel giorno di Ferragosto. Devo dire che insieme anche ai miei collaboratori siamo realmente molto soddisfatti dell'esito di questi lavori, una ristrutturazione fatta bene, con attenzione a tutti i particolari e credo che adesso ci sarà un reparto che è utilizzabile nella maniera più ottimale sia da parte di chi ci lavora che da parte dell'utenza che è tanta. Adesso aspettiamo qualche altro giorno giusto per organizzare il trasferimento e poi appena saremo tutti tranquilli, cominceremo a riempire questi letti. Per ora stiamo operativi in chirurgia dove ci stiamo dividendo le stanze con i colleghi chirurghi e quindi l'attività è andata avanti comunque lo stesso in attesa di poter essere completamente autonomi qua. La ristrutturazione è stata eseguita nel rispetto delle nuove norme tecniche dell'anti-covid creando dei percorsi separati. Le degenze sono state completamente ristrutturate, rinnovate, sia con le pavimentazioni, i rivestimenti, sia i bagni sono stati completamente ristrutturati, con i servizi igienici. Sono state completamente realizzate delle pitturazioni ecologiche all'insegna della cromoterapia. Sono stati anche adeguati tutti gli impianti, illuminazione a LED, impianto internet e un nuovo impianto di climatizzazione. Allora, per l'esigenza di tempo, perché abbiamo ancora pochi minuti, devo accorpare gli ultimi due servizi che avevamo in scaletta. Dopo poi chiaramente, prima di parlare anche Amati su questo e Friolo, Amati ha partecipato anche a quella inaugurazione. Uno dei temi caldi di questa campagna elettorale è stato evidentemente legato alla candidatura del professor Lopalco. Nei giorni scorsi nel nostro telegiornale c'è stato un duro intervento dell'onorevole Mauro Dattis di Forza Italia, che è il coordinatore regionale, tra l'altro, del partito in Puglia. Raccoglieremo tutti i comunicati stampa del professor Lopalco e li porteremo in procura, detto Dattis, per capire come la Regione abbia gestito l'emergenza Covid-19. La Regione Puglia impreda lo sbaraglio sulla gestione del Covid-19 tra Emiliano e Lopalco, che stanno dando uno spettacolo tutt'altro che lusinghiero, generando confusione e provocando non pochi danni ai pugliesi. Per questo condividiamo la proposta di Raffaele Fitto, che ha richiesto al Governo di indicare subito un commissario per la gestione dell'emergenza in Puglia. Così Mauro Dattis, deputato di Forza Italia e coordinatore regionale del partito. Il professor Lopalco, che ricordo è pagato con i soldi della Regione, quindi con i soldi dei pugliesi, per fare il capo della task force, ormai ci ha abituato a queste uscite mediatiche giornaliere, con le quali ci racconta cose ovvie. Quando i contagi stanno diminuendo dice che bisogna aprire le discoteche, quando i contagi stanno aumentando dice che bisogna fare molta attenzione. Francamente non avevamo bisogno del professor Lopalco o soprattutto non avevamo bisogno di una persona pagata con decine di migliaia di Euro per sentire delle cose ovvie. Se poi ci aggiunge che il professor Lopalco a questo punto è uno dei tanti concorrenti, delle centinaia di concorrenti che la gente dovrà valutare se votare o meno per il Consiglio regionale, mi sembra quantomeno etico, morale, tutto quello che ci vuole mettere, che il professor Lopalco si stia zitto, eviti di fare queste uscite stampa quotidiane, lavori per quello che è pagato, anche perché francamente, come abbiamo preannunciato, stiamo raccogliendo tutte le uscite stampa del professor Lopalco, tutte le uscite fatte con i comunicati ufficiali della regione da quando è esploso il Covid in Italia e in particolare in Puglia, perché secondo noi c'è materiale interessante anche per le procure. Se è arrivato un avviso di garanzia al Presidente del Conte perché c'erano dei dubbi sull'attività del Governo, io penso che anche chi come Lopalco ha un carico pubblico debba stare attento alle cose che dice nella gestione di una pandemia come quella che ci siamo trovati di fronte. Avete due minuti e mezzo a testa per l'ultimo giro, abbiamo visto l'inaugurazione ospedale di un reparto fa piacere perché migliora la qualità alberghiera, perché bisogna comunque dare ai pazienti, visto che già vanno in un luogo dove non vorrebbero andare, che è quello dell'ospedale, ma ci vanno per necessità, avere una qualità alberghiera dignitosa, non dico che risolva i problemi, ma migliora le condizioni di disagio che ognuno poi c'è con la propria ospedaliere della malattia. Però poi, mentre si inaugurano i reparti di ortopedia per migliorarli, noi vediamo che purtroppo per mancanza di medici al Perrino mancano gli ortopedici e non è possibile che il Perrino, che è l'ospedale di eccellenza di Brindisi, non abbia l'ortopedico di notte. Ma questo non per volontà della politica o comunque dell'organizzazione sanitaria della direzione generale, ma perché mancano appunto i medici. Spieghiamo che nei giorni scorsi c'è stata la denuncia agli organi di stampa di alcuni pazienti che, in particolare uno aveva portato il bambino con un braccio rotto, lo avrebbero invitato a tornare il giorno dopo. Lo avrebbero invitato a tornare il giorno dopo perché non c'era l'ortopedico di notte. Però questo fa parte anche di un'organizzazione sanitaria perché è necessario, almeno nell'ospedale di eccellenza, garantire il turno notturno. Non so come, però io non sono un direttore generale, io non amministro, è necessario trovare delle soluzioni, qualsiasi esse sia, perché l'assistenza ospedaliera, soprattutto per determinate specialità, deve essere garantita H24 e non è che uno deve essere fortunato che deve stare male o si deve spezzare un braccio di giorno e di notte invece deve stare bene. E questo, diciamo, è il limite, però va anche apprezzato che questi lavori si fanno e mi auguro che si continuino a fare in un ospedale che io conosco e conosco molto bene perché per un certo periodo di tempo anche è diretto, ci sono altri reparti da sistemare e bisogna dare dignità a tutti quanti. Sulla candidatura di Lopalco? Sulla candidatura di Lopalco ritengo che sia scandalosa la candidatura di Lopalco. Io non voglio entrare nel merito di quelle che sono le competenze del professor Lopalco perché non sono all'altezza e quindi non sono tecnicamente attrezzato, però i risultati sono sotto gli occhi di tutti e un amministratore come Emiliano, secondo me, avendo questa punta di diamanti, secondo lui, nella gestione Covid, non avrebbe dovuto assolutamente candidare di opportunità. Sì, perché poi tra l'altro Lopalco ha sempre bisogno di più task force, ogni settimana è uscita una task force e forse ne stanno uscendo delle altre, non è possibile che per affrontare la pandemia poi siano necessarie tutte queste task force, quindi è inopportuna assolutamente la candidatura e a quanto pare, siccome l'uomo di punta, anzi sarà forse il prossimo assessore alla sanità, così si dice, forse lo candidano in tutto. Ci dai per vincente, ci dai per vincente. Poi dovesse vincere Emiliano, sarà... Ma vinceremo noi, allora? Certo, ma non avrebbe... Non sto scherzando, dai, sto scherzando. Quindi noi comunque ce lo terremo come tecnico eventualmente, non lo so, non sono decisioni che prenderò assolutamente io. No, 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 assolutamente no, ci scherziamo su questo. Quindi questione di opportunità non... Ma questione di opportunità, non è possibile poi andare a... a, diciamo, andare ad inficiare tutta la professionalità di una persona che è comunque... Un autogol, insomma, secondo lei. Sì, un assoluto autogol. Fabiano Amati. Ma io, l'ospedale di Ostuni, l'unica cosa che non ho fatto in questi mesi per la distruttazione di quei due reparti è prendere il bisturi e operare. Poi ho fatto tutto, eh, ho spostato i letti. Perché? Perché avevo proprio la necessità di far sentire il sostegno dell'amministrazione pubblica a un pool di operai, dirigenti e tecnici, per fare questa grande operazione immediata. Ci sono state ostilità. Cioè, a un certo punto l'ASD decide di sospendere le attività perché erano stati sospesi gli interventi non urgenti. C'è stata un'insurrezione contro la ristrutturazione dei due reparti, ricorsi al TAV. Sono stati presentati ricorsi al TAV contro la ristrutturazione dei reparti. Una cosa folle. Quindi, diciamo, l'ho curata quotidianamente in quel cantiere. In una situazione settica precedente, cioè il rischio di infezioni, da fare spavento. Cioè, era proprio insostenibile. E, diciamo, adesso è sicuramente stato realizzato un lavoro che dà dignità a quei due reparti e mette in sicurezza le persone e i pazienti che lì lavoreranno. Scusami, sei stato bravo tu, non il direttore generale. No, sì, ma il direttore... Ah, sì, no, no, pensavo che ti avessi dato la subdelega per ostilio. No, guarda, ne ho così tante deleghe. Le ho seguite nell'ambito della mia funzione di indirizzo e controllo. Quando ho notato che c'era una grande resistenza e che il provvedimento della ASL, la decisione della ASL, aveva tante resistenze, mi sono parato e piazzato io lì. Avevo lo francheso. Dicendo, peraltro, diciamo, anche con soddisfazione reciproca, ho fatto il consigliere regionale. Il consigliere regionale deve mettere i piedi nella polvere. Il consigliere regionale, sempre come faccio io, ogni mattina sto su sette cantieri, giro i cantieri, ho a che fare con gli operai, il mio sostegno, il mio conforto... Vado a sentire delle dichiarazioni del direttore generale, il quale ha sostenuto in qualche occasione pubblicamente che lui non ha avuto a fianco la politica. Non lo so, la politica è l'oggetto. No, ovvio i consiglieri regionali... Se gli chiediamo i politici, là ci sono le immagini, non soltanto dell'inaugurazione, dove non so se hai notato, io stavo dietro, perché io alle inaugurazioni faccio mettere avanti gli altri, ma proprio nell'attività quotidiana. La vicenda di Ostuni, la vicenda... Visto il presidente della commissione sanitaria. La vicenda, la vicenda, sì, ma io a stento rispondo di me. La vicenda quindi di Ostuni, la vicenda di Cisternino, tutte queste vicende... Bisogna fare il consigliere regionale, il consigliere regionale sta in campo... Sulla questione che mancano i medici, diciamola tutta, il problema sono le università, gli statuti delle scuole di specializzazione. No, perché noi parliamo di noi e poi non parliamo di altro pezzo della classe dirigente. Sulla questione invece Lopalco, quando la prova scientifica viene messa al servizio del narcisismo, la televisione, i giornali, eccetera, eccetera, allora si perde l'autorevolezza dell'opinione scientifica, ok? Quindi il professor Lopalco gli sta piacendo assai la televisione e i giornali, questo è il vero problema. E quindi, siccome gli sta piacendo tanto, sta disonorando la funzione scientifica. Io non mi sarei mai prestato a fare tutto questo. Peraltro io organizzo un festival, assieme ad altri, diretto dalla senatrice Cattaneo, il festival della scienza e della decisione politica. E la senatrice Cattaneo, donna sobria, insegna che l'autorevolezza della prova scientifica consiste proprio nel fatto che non ti devi far coinvolgere dalla risputa. Non è possibile che tu ti metti a discutere a tu per tu nel dibattito pubblico, nella lotta politica. Questo è un grande limite del professor Lopalco, da un punto di vista tecnico. Egli sostiene, e lì, diciamo, purtroppo non ha conoscenza della scienza dell'amministrazione pubblica. Egli sostiene di poter essere l'assessore quasi come se l'assessore fosse un ramo dell'amministrazione pubblica come un ministero. E non conosce, perché è un problema di studio, e non conosce l'ordinamento. E non conoscendo l'ordinamento tradisce il suo narcisismo. Egli ha il diritto di candidarsi e di essere cittadino. Ma la condizione che nel momento in cui lo annunci, tu non utilizzi la funzione per motivi elettroni, quello è secondario. Tu decidi di metterti da parte per non creare documento, danno, alla prova scientifica che stai indicando. È un principio applicabile spesso anche in magistratura, questo, quando si parla. Guardi, è applicabile ovunque, è un principio di buonsenso. Molti insorgono contro lo palco dicendo che tu sfrutti la funzione per motivi elettorali. È l'ultimo dei nostri problemi. Il problema è che tu, se entri nella disputa, non sei credibile quando sostieni la prova scientifica, che è la cosa più grave perché crea danni sulle persone. Stupito dalle dichiarazioni di Amati, Friolo? No, assolutamente no, lui è sempre oggettivo. Va bene, allora, io vi ringrazio intanto anche per la qualità del dibattito, tanto avremo modo di incontrarci ancora prima dell'appuntamento elettorale. Parte tecnica di questa trasmissione è curata dalla sede di Brindisi di Studio 100 da Alessandro Colavito, grazie a Fabiano Amati, grazie a Maurizio Friolo, ovviamente in bocca al lupo, buona campagna elettorale, noi ci ritroviamo giovedì prossimo con una nuova puntata di Palazzo Nervegna. Grazie a tutti, grazie a tutti.